Quanti giorni c'è stupato? Da ieri mattina, domenica mattina. Secondo lei è normale che un paziente non basta di suonare? Assolutamente no, vengono trattati peggio che animali. Hanno più dignità se stanno a casa questi pazienti, perché non è possibile andare avanti così, assolutamente. È una situazione veramente degradante per loro. E poi certo, i dottori fanno quello che possono, perché i pazienti sono tanti. I dottori, per l'amor di Dio, io non parlo di tutti, parlo proprio della struttura che è tutto sbagliato, completamente sbagliato. Vivendo in un altro paese che non è Napoli, so cosa è la differenza.